Continuo a sentire dichiarazioni strane, in particolare da parte del Sindaco, che più volte ha rilasciato interviste sulla questione a Rete 6. Ma forse qualcuno non ha capito che vi sono 14 schede elettorali fuori dal seggio? Cioè non sono al loro posto. Come mai sono fuori e non nelle buste consegnate al Comune? A me non interessa particolarmente chi e come sono finita la Dicos. Non commete a me questo compito. Aspetto fiducioso il corso della giustizia. Un fatto è certo. Ci sono 14 schede autenticate e non votate in mano agli inquirenti e non al loro posto. Molte di queste schede sono della sezione numero 7, il cui Presidente è stato nominato dal Sindaco e i cui verbali di sezione sono mancanti del numero delle schede autenticate e non utilizzate. Sono state viste e fotografate a casa sua i plichi e le schede. Sarebbe bello dire da parte dei colpevoli, il morto a casa mia lo hanno messo altri. Sarebbero tutti innocenti. Nessuno imbroglia per perdere, ma per vincere. Chi subisce il torto denuncia. Una cosa è certa e da là si parte. Le schede sono state viste e fotografate in quella casa. I verbali di quel Presidente sono nulli. Il Presidente non è stato nominato dalla Corte d'Appella, ma dal Sindaco. Questo è il dato. Ma di che cosa stiamo parlando? C'è sicuramente nullità assoluta delle elezioni. Questo lo dirà il TAR o la Procura della Repubblica di Avellino. Ma lo vogliamo sentire. Poi accertiamo pure come sono uscite nella sezione numero 7 e dalle altre sezioni e chi è stato. Ma la smettiamo con queste dichiarazioni ridicole e maliziose? Intanto annuncio che stiamo valutando con i nostri legali se denunciare il Sindaco per quelle dichiarazioni su di un presunto complotto ai danni della lista vincente. Come fa a sapere queste cose? Chi lo informa? Poi dico che non ci fermeremo mettendo in atto tutte le azioni che la legge ci consente per arrivare alla verità. il TAR, Consiglio di Stato, Procura della Repubblica, Procura Generale, TV fino al Presidente della Repubblica. Intanto anche il TAR come la Procura ha i mezzi a disposizione per accertare tutto. Anche aprire i replichi, contare le schede e verificare altro. Ci appelliamo alla giustizia del giudice amministrativo, della Procura nella persona del PM Antonella Salvatore e del Procuratore Generale della Repubblica Cantelmo e soprattutto ovviamente ai poteri che gli concede la legge. Poi è di oggi che abbiamo visto nelle altre televisioni, nelle T6, che è stato comunicato che si sono arrivati cinque avvisi di garanzia. Questo è per far presente alla cittadinanza e le due persone che hanno portato queste schede gli sono state restituiti i telefoni e sono state tolti dalle indagini. Quindi questo tutto verte a favore nostro. Quindi voglio dire a tutta la cittadinanza che la serietà e l'onestà alla fine paga.